Ciao a tutti, oggi prepareremo la zuppa della strega. Il tempo di preparazione è di 50 minuti circa. Gli ingredienti sono lenticchie rosse decorticate, acqua, olio, pomodori piccadilli, carote, zucca, sedano, scalogno, patate, dado bimbi, sale e pepe, pancetta affumicata, rosmarino, prezzemolo e basilico. Andiamo il via alla ricetta. Mettere nel boccale i pomodori, lo scalogno, il sedano, le carote, il basilico, il rosmarino e il prezzemolo. Tritiamo per 10 secondi a velocità 7. Adesso rimuoviamo sul fondo. e aggiungiamo l'acqua, la zucca, l'olio, le patate, il sale, il pepe, le lenticchie, e un cucchiaino di dado bimbi. mescoliamo e facciamo cucinare per 40 minuti. 100 gradi, anti-orario, velocità soft. adesso mettiamo la pancetta e amalgamiamo per 5 minuti. 100 gradi, anti-orario, velocità soft. la nostra zuppa è pronta. Andiamola a impiattare. giuppa della strega, grazie e alla prossima ricetta. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.